Buongiorno FTA Online, avvio positivo questa mattina per il Fuzzi Mib, in questo momento siamo a 18.880 punti circa, rialzo dello 0,6%, una prima resistenza, i prezzi la incontreranno intorno a 18.950 punti, sopra quei livelli possibile test di area 19.200, abbiamo una situazione grafica positiva, ma difficilmente il mercato andrà incontro a rialzi decisi prima della conclusione della riunione della Fed di politica monetaria che potrebbe lasciare intendere quali siano le prossime tempistiche per un eventuale nuovo rialzo dei tassi, fino a stasera quindi difficilmente il mercato si produrrà in movimenti particolarmente significativi. Ci sono comunque nonostante questo alcuni titoli che invece si stanno mettendo in evidenza, questa mattina tra questi c'è Eni, il rialzo è l'1,2% circa, siamo a 13,36 Euro, questa mattina Credit Suisse ha riavviato la copertura su Eni, la raccomandazione è positiva, un outperform con un target price a 15,50 Euro, quindi prossimità dei massimi dello scorso dicembre. Il movimento di oggi sicuramente è interessante, la prima resistenza per il titolo però si colloca al di sopra dei livelli che i prezzi stanno toccando, ovvero sì in corrispondenza del massimo del 4 di marzo che è stato toccato a 13,73 Euro, quindi con un piccolo sforzo ulteriore, il titolo invierebbe un nuovo segnale di forza incoraggiante che lascerebbe pensare al proseguimento della fase positiva con un primo target in area 14 Euro per la precisione a 14,06 Euro sul massimo del 29 dicembre, ma successivamente riteniamo che si possa ipotizzare anche il ritorno sui massimi, proprio sui massimi di dicembre che il titolo ha toccato a 15,53 Euro, resistenza significativa nel medio termine, la linea che scende dai massimi dello scorso aprile a 14,45 circa, riteniamo però che in ogni caso al superamento di 14 Euro quella resistenza potrebbe diventare un ostacolo temporaneo, ma che difficilmente la corsa a rialzo del titolo potrebbe venire ostacolata proprio da quei livelli, al di subito dell'area 14 riteniamo infatti che l'avvicinamento di 16 Euro potrebbe essere effettivamente molto probabile, in caso di mancata rottura dei 14 Euro invece submenterebbe il rischio di assistere alla ricopertura del gap rialzista che i prezzi hanno lasciato il 26 febbraio con una base a 12,28 Euro, conferme di una flessione di quella portata di sotto dei 13 Euro, quindi per chi volesse rimanere investito sul titolo, sui livelli attuali non ci sono problemi, anzi si possono anche incrementare le posizioni di sopra dei 14 Euro, ma in caso di violazione dei 13 Euro suggeriamo invece di mettersi a lato per verificare quali sono le effettive prospettive del titolo. Molto positivo anche il Fiat Chrysler questa mattina grazie ai dati sulle immatricolazioni di auto in Europa che la vedono ancora una volta fare meglio del mercato, il titolo in questo momento è 6,95 Euro circa, in rialzo del 2,35%, anche in questo caso la resistenza di breve più significativa è leggermente più alta dei livelli attuali, si può ipotizzare infatti la creazione di un contesto a spalle rialzista a partire dal minimo di metà gennaio, la figura, quella contenuta all'interno di questa parte evidenziata, la decline transita in questo momento a 7 Euro e 0,7 circa, quindi poca di sopra dei livelli attuali, in caso di superamento di quella quota avremo una buona probabilità di un proseguimento della fase correttiva del ribasso dei massimi di ottobre con obiettivi a 7,40 e 8 Euro, ma in realtà se diamo credito alla ipotesi di essere in presenza di un testo a spalle rialzista in formazione, il target sarebbe anche più lontano perché ottenuto dalla proiezione dell'ampiezza della figura dall'ipotetico punto di rottura e si collocherebbe quindi a 9,10 Euro circa. Pur in un contesto positivo suggeriamo data la vicinanza della resistenza di non anticipare le posizioni d'acquisto attendendo come abbiamo detto la rottura di 7,05 e 7,06 prima di intervenire con un ottimo margine in quel caso di crescita potenziale. Il testo a spalle verrebbe negato in caso di discese a di sotto dei minimi del 10 di marzo a 6,45 Euro, sarebbe quindi quella la quota che utilizzeremo come stop loss per eventuali posizioni positive già in essere. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo buona giornata e vi diamo appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero. Grazie.